...ci portano al tracomando con l'Italia e la prima volta di oggi, Vettorale 2-2, vince qui a Roma, 18 Bufazza! International Security Service, 30 minuti e 56 secondi, secondo il Vainarima, Gaiman Roberts, che in 31 minuti di 10 secondi in distanza si va a continuare il secondo posto, hanno fatto letteralmente il vuoto, non si vede ancora l'orizzonte, il terzo tre che chiuderà il podio maschile ma da adesso iniziamo con gli arrivi di A e quindi, ripeto, completamente libera la strada, nessuno passi più sotto l'arco d'arrivo perché da adesso saranno i mille a passare qui con noi, sotto l'arco d'arrivo. Sì, la vera entusiasmante è la prima di questi due top runner, ricordiamo che Cianco Pazza ha partecipato alla bandona di Venezia il 20 novembre e parteciperà anche la prossima bandona in Giappone, a Tim, a Ismail, un altro grandissimo cartoneo, questi due atleti che si sono andati a battaglia davvero su questi 10 chilometri velocissimi, hanno avuto una media di 304 o 305 chilometri, davvero entusiasmante, come si può vedere davvero? Per dare un'idea, dei 5, dei 6 chilometri, non si è compiattato sui 20 chilometri orari in media, in maniera da una parca di neanche a chi e noi abbiamo abituato a riuscire delle medie geometriche, che cosa significa? Quindi immaginate di correre per 10 chilometri e 20 minuti all'ora e spesso anche il mondo vino che non sono mai salita, non è stato faticoso, ma non l'hanno fatto con le strade di Ola e di me non sono fatti naturalmente in vuoto alle loro spalle. Quindi noi attenuiamo i riuscire, vi sarà il tetto, ma si è piccola per il terzo del foglio, di sì prima di scianto, adesso, la partita di finestre, qualche settimana fa, c'era una bellissima sfida, spalla, spalla per il terzo posto, ancora Caivano, e invece all'arrivo, dovrebbe essere Marco Pico, ascoltarla su il centro palco, quinta posizione su, per Pasquale Pico, guarda Caivano, da due che è campione italiano, Master, quindi un altro valore aggiunto per questa gara, arrivo il primo degli aerei fuori regione, nettamente da Serbia, quindi il segno di quanto questa gara sia questa e avvita anche anche voi, e con fiei regionali siamo a 33 minuti e 33 secondi per arrivare all'altra quadra, Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti.